Sono con Canada numero 119 di testiera. Filippo Moyerson presenta a Canada una femmina grigia tedesca del 2003 da Cornet Obelensky e Panama. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Zero penalità tempo 71 e 08. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tempo 42 e 63. Con questo risultato Filippo Moyerson vince questo gran premio. Ed ora daremo lettura della classifica. Primo, Filippo Moyerson con Canada. Zero le penalità totali delle domande. Tempo 42 e 63. Moyerson in sella a Canada, abbinati al numero 66 della lotteria. Un errore il primo giorno nella gara da 140 con la dodicesima posizione in classifica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Bene, passiamo adesso all'Italia e vedremo Filippo Moyerson in Sella Canada, grigia di otto anni tedesca da Kornet Obolensky. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il tempo è 67.31, total 4 punti per Umorcus. E adesso Canada, ancora l'Italia in campo con Filippo Moyerson numero 371. 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, punteggio pieno anche per Filippo Moyerson, il tempo 39.23. Si inserisce al quinto posto della classifica provvisoria. 39.23, il tempo 44.